Saranno artisti nazionali e internazionali come DJ Time, con i DJ Albertino, Fargetta, Molelle, Prezioso, Giusy Ferreri e Alvaro Soler a impreziosire il ricco calendario di eventi del Rassegna Estiva Hashtag Live Festival 3, con spettacoli rigorosamente gratuiti in programma dal 13 luglio al 15 agosto negli spazi del Città Sant'Angelo Village Outlet. Per tutta l'estate le piazze del Borgo Angolano dello Shopping si animeranno con eventi a tema e spettacoli live, dando la possibilità ai visitatori di fare acquisti nei negozi dell'unico outlet abruzzese che nei giorni degli eventi rimarranno aperti fino alla mezzanotte. Si comincia il fine settimana del 13 e 14 luglio con l'evento Un'estate Italiana. A partire dalle ore 10 le vie e le piazze del Village rivivranno le ambientazioni degli anni 60, 70 e 80 con animazioni di eventi a colpi di trucco e parrucco, sfilate di moda e laboratori creativi a tema. Domenica 21 luglio alle ore 21 sarà la volta del live DJ Timing Tour con la musica rigorosamente anni 90 di Albertino Fargetta Molelle Prezioso. Seguiranno i live dell'artista siciliana Giusei Ferreri sabato 27 luglio e il Summer Tour di Alvaro Soler martedì 6 agosto. A chiudere i live Festival 3 sarà il Cocomero Party di giovedì 15 agosto a partire dalle ore 18 e 30. Rassegna nella rassegna e poi il live food music con concerti dal vivo nella cornice della piazza del Cibo del Village con gli appuntamenti che aglieteranno le cene estive di ogni sabato a partire dalle ore 19. Il tutto senza dimenticare che da sabato 6 luglio inizieranno i saldi estivi che andranno avanti fino a giovedì 29 agosto. Al nostro microfono Giuseppe Di Gianvincenzo, direttore del Città Sant'Angelo Village e Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo. L'obiettivo era quello di offrire al territorio un'opportunità di svago e di divertimento a titolo gratuito con l'obiettivo di offrire questo luogo che è comunque piacevole sia per lo shopping ma anche lo sta diventando per il food con la nostra food court ma soprattutto con l'intrattenimento tutto l'anno. Ovviamente l'estate rappresenta il momento principale perché la stagione ce lo consente ma noi abbiamo appuntamenti praticamente tutti i mesi. La prossima settimana renderemo pubblici gli eventi che investiranno l'intero territorio da Villa Cipressi, Città Sant'Angelo, Centro Storico fino a Marina di Città Sant'Angelo oltre naturalmente agli eventi oramai storici che sono organizzati dalle varie associazioni all'Ettra e al Gran Sasso e festa in corso dopo il periodo di ferragosto.